Buongiorno e benvenuti al corso di Formalia di come conquistare un ospite con la colazione. Iniziamo subito da che cos'è il breakfast. Il primo pasto della giornata è sempre stato più gradito. Ogni popolo lo celebra in varie maniere, ma rimane in esso quale che sia il modo migliore per iniziare la giornata. In origine far colazione indicava una breve adunanza di monaci, vespertini, durante la quale venivano commentati alcuni pasti dei testi sacri e alla quale faceva un seguito un pasto. Ma analizziamo meglio, da quand'è che gli uomini fanno colazione? Forse da sempre, forse da quando hanno scoperto il valore della casa, del focolare, di un bacio, di un abbraccio prima di recarsi al lavoro. Oggi, invece, la colazione si assume perlopiù a casa, spesso al bar. In ogni caso, comunque, si consuma prima di recarsi a scuola o al lavoro.